grande fratello incredibile shayla gatta in guai anche lorenzo spolverato ha fatto cose con elena prestes sotto le coperte shayla gatta oggi parlando con ilaria galassi e pamela petrarolo ha svelato che anche lorenzo spolverato e elena prestes sotto le coperte hanno fatto qualcosa la ballerina ha confidato alle due amiche che il modello in spagna le ha confidato cosa c'è stato davvero tra lui ed elena ma poi l'ha fatto anche lui e ora lascia stare che non c'è stato il bacio ma sotto le lenzuola io so che hanno fatto cose me l'ha detto lui le non è la rai l'hanno bloccata e il discorso è finito lì ovviamente sui social è stata criticata per aver detto una cosa così intima di elena e perché lei si è arrabbiata con cancelletto a ver martinez per aver raccontato certe cose loro ma poi ha fatto lo stesso